Buonasera e benvenuti al secondo appuntamento del 2013 di Arapacis. Dedichiamo la puntata di stasera a leader, leaderini e piferai più o meno magici che popolano la nostra politica e affollano questa campagna elettorale e agli statisti che non ci sono e che almeno noi vorremmo avere. Statisti di cui si sente maledettamente la mancanza anche nell'Europa della moneta unica eppure in molte altre parti del mondo. Dite la verità, non avete forse nostalgia, non dico dei padri della Repubblica, da De Gasperi alla Malfa, da Nenni a Togliatti che sono nella mia moria solo degli over 60, ma anche dei protagonisti più recenti della Prima Repubblica, i Moro, i Craxi, i Berlinguer. Oggi dopo 20 anni di bipolarismo armato in cui abbiamo creato partiti personali, votato leader solo televisivi, digerito a fabbulatori di tutelerisme, l'Italia si ritrova ad affrontare la crisi più difficile del dopoguerra con un certo politico assolutamente non all'altezza della sfida. E non si tratta solo delle degenerazioni di quella che non a caso abbiamo chiamato casta. Qui il vero problema è la mediocrità, l'incompetenza, la pavidità di chi al governo, nel Parlamento e nelle maggiori istituzioni ha o meglio avrebbe tanto il compito di decidere quanto quello di controllare e controproporre. Ma farei solo demagogia se ai politici corrotti, incapaci, contraponessi una società civile piena di virtù. Non è così, anzi, qualche tempo fa ho cognato una definizione, dittatura della mediocrità per descrivere il progressivo decadimento della qualità media non soltanto del nostro ceto politico ma dell'intera classe dirigente nazionale. Uomini delle istituzioni, imprenditori, manager, professionisti, dirigenti pubblici e privati, magistrati, giornalisti, tutti accomunati mediamente da un livello qualitativo modesto. Perché? Un po' per il diffondersi di un fenomeno, la deresponsabilizzazione che attraversa tutta la nostra società e la rende fragile. Un po' perché abbiamo scassato strumenti e modalità di selezione dei certi dirigenti a cominciare dai partiti e un po' infine perché essendosi fermato l'ascensore della promozione sociale manca la competizione meritocratica e invece alligna la conservazione corporativa dei privilegi, persino tramandati di padre in figlio. Ma se tutto questo da noi ha assunto connotazioni patologiche, non molto meglio stanno gli altri paesi dell'Occidente più ricco. Per esempio, non è un caso che l'Europa sia in crisi vista la qualità dei capi di Stato e di Governo alle prese con il rebus dell'integrazione politica dell'Eurozona, per fortuna che c'è Draghi. Pensateci, Merkel non è Cole né tantomeno Adenauer, Chirac e Sarkozy non valevano De Gaulle, Hollande è lontano parente di Mitterrand, in giro non si vede una tacere nemmeno un Blair. E anche ripercorrendo l'albero genealogico dei Presidenti degli Stati Uniti sarebbe difficile sostenere che gli ultimi sono meglio dei precedenti. Come ne usciamo? La democrazia è in grado di rigenerarsi? Di solito si dice che solo eventi traumatici come le guerre producono palingenesi. Ma non è forse una guerra seppure fortunatamente senza armi ciò che abbiamo vissuto e ancora in parte stiamo vivendo per effetto della crisi finanziaria mondiale? E allora rimbocchiamoci le maniche che c'è da ricostruire, magari ricominciando da un'assemblea costituente, anzi ricostituente. Sigla.